Cama Shop, centro Vodafone, via Nazionale Trenta a merito di Portosano. Non solo telefonie ma anche informatiche, elettrodovestici, gastroneria, fotocopia e riparazione cellulari, stampe, plotter, grandi informati, manifesti e locandine, formattazione e riconfigurazione. Non solo telefonie ma anche informatiche, elettrodovestici, gastroneria, fotocopia e riparazione cellulari, stampe, plotter, grandi informati, manifesti e locandine. Formattazione e riconfigurazione piccola. Cama Shop, via Nazionale Trenta a merito di Portosano.